Mitoff quest'anno per il terzo anno apre anche alle periferie. Il Casale dell'Arte apre le porte alla cultura. Come vedete alle mie spalle abbiamo un cartellone molto intenso. A luglio Mitoff sarà qui ospitato al Casale dell'Arte. Il progetto è più ampio rispetto agli anni scorsi con la creazione di una compagnia laboratoriale, Compagnia dei Miti, per diventare poi una fucina per la Compagnia dei Miti che già mette in scena il spettacolo di teatro classico da diversi anni. Quest'anno avremo anche la rassegna Mitoff Cultura e Periferie, dieci spettacoli di teatro di narrazione con registri e attori di caratura nazionale che si svolgeranno, si articoleranno proprio su Casale dell'Arte e Idria. La rassegna Mitoff ha il grande merito di portare il teatro in periferia attraverso il progetto palcoscenico Catania. Io ringrazio Salvatore Guglielmino perché ha interpretato perfettamente lo spirito del bando proposto dall'assessorato alla cultura del Comune di Catania che realizzerà una serie di attività laboratoriali che coinvolgeranno i ragazzi dei quartieri periferici della città. Il Tondicello della Playa, San Giovanni Galermo, la zona di San Cristoforo saranno coinvolti in questo progetto a dimostrazione che si può fare arte, si può fare cultura, si può fare inclusione sociale utilizzando uno strumento straordinario come quello del teatro.